Salve a tutti, io sono Giorgia e questo è A Game of Talks, il canale dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin. Saga dalla quale è stata tratta la nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere. Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me, mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Come potete vedere oggi il mio outfit ha i colori di casata Targaryen perché andremo proprio a parlare della preferita, penso, esponente di casa Targaryen, ossia Daenerys Targaryen. Allora, girando per TikTok, sì, ho TikTok ma non lo so usare, mi è capitato l'account di una ragazza che esordisce il suo video con questa frase Se avete odiato la fine di Daenerys Targaryen nella serie, siete stupidi. Pace interiore. E a me già questo preludio non piace. Ma i punti che ha trattato mi sono piaciuti ancora meno. In questo video, contrariamente a tutti quelli che ho fatto fino ad ora, non parlerò tanto degli eventi del libro. Perché dopo la prima serie è tutto troppo smin***ato per cercare di dare un senso alla serie attraverso il libro. Non si può fare. Però, questo può essere una bella fotografia di quanto il Trono di Spade come serie non è solo una rappresentazione fatta col culo delle cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin, ma è un prodotto proprio fatto malissimo, scritto male, che non ha un c***o di senso. E quale storia ce lo dimostra meglio di quella della fan favorite per eccellenza, Daenerys Targaryen? Tornando al video di questa TikToker, farò una lista dei punti che lei ha trattato nella sua arringa e ovviamente aggiungerò le mie risposte, osservazioni e critiche. Perché se non critico non sono contenta. Punto 1. Daenerys è cresciuta con la convinzione, perché le è stato detto per tutta la vita, che lei è la legittima erede al Trono di Spade. Non è proprio così. Lo so che tutti noi lo odiamo, ma ricordiamolo perché esisteva. Daenerys ha un fratello maggiore. Viserys III Targaryen. E chi è Viserys? Per chi non lo conoscesse, o per chi non se lo ricorda, anche perché magari l'ha voluto eliminare dal suo ricordo, e anche perché diciamo in questa serie non ti aiuta perché Daenerys durante gli anni non ne parlerà mai più, Viserys è il secondo figlio del re Aerys, ossia il re folle. Dopo la rivolta di Robert e la caduta di casata Targaryen, Viserys e Daenerys sono gli unici due superstiti, e quindi gli unici due Targaryen in vita. Adesso. Per chi tifa Targaryen, e non intendo noi fuori, ma intendo il popolo nella storia, e per popolo intendo sia i ricchi che i poveri, perché questo conta, all'inizio della serie Viserys è il legittimo erede, perché secondo figlio maschio di Aerys, essendo sia Aerys che Rhaegar morti, per la linea di successione, di cui ho fatto anche un video, passa di diritto a Viserys. In tutto ciò, come ci insegna House of the Dragon, Daenerys non è contemplata, perché Daenerys è femmina. Quindi, essendo Daenerys femmina, in questo momento della serie, quindi quando inizia la storia, nessuno se la caga. Lei inizia che sa che nessuno se la caga, cioè che il protagonista è suo fratello. E non solo che il protagonista è suo fratello, ma che lei stessa è nelle mani di questo tizio esaltato, e dell'unico che gli dà una mano, un apporto e un supporto, il cui nome è Illirio, che è amico di Varys. E già che io dico questa cosa, ci deve far venire un campanello d'allarme. L'unico alleato che loro hanno è questo Illirio. Tant'è che, nella serie non te lo dicono, te lo dico io dal libro, Viserys è anche conosciuto come il re mendicante. Io non mi ricordo se nella serie lo dicono, forse lo dicono anche, questo non mi ricordo, però Viserys è conosciuto a Westeros come il re mendicante. Perché? Perché siccome non ha uno straccio di alleato, lui va in giro per esso, sta a cercare gente dicendo io sono Viserys Targaryen, mi dai per favore il tuo porto? E la gente gli chiude il portone in faccia, un sacco di gente gli chiude la porta in faccia. Non sono gli Stark i mendicanti che nella settima serie li hanno fatti andare in giro per i castelli del nord a chiedere aiuto e gli facevano no e chiudevano. Non è così. Quello è la storia di Viserys e Daenerys, primo libro, serie 1. Tant'è che loro sono stati in giro per il mondo finché Illyrio ne ha detto prego venite, venite. Per quale motivo ancora non si sa. Comunque si sa sicuramente che l'unico alleato vero che loro hanno all'inizio della serie è Illyrio. Non è che il mondo dice a Viserys che lui è legittimo erede e che tutti lo aspettano. Non tutti gli dicono questo. Glielo dice Illyrio. Vi posso garantire che nei sette regni nessuno si strappò i capelli o morì dal dolore quando i Targaryen vennero levati di c***o dal trono. Perché Eris era pazzo. Cioè era proprio pazzo. Non lo controllavi. Cioè se lui ti voleva ammazzare non importa chi era ti uccideva senza pensarci due volte. Quindi era molto pericoloso. Ora nel libro ma anche nella serie fino alla quinta che così a caso viene detto che tutti odiano Robert che c'era il club anti-Robert forse hanno anche le tessere non viene mai detto che gli abitanti dei sette regni rivolgono questi cacchio di Targaryen sul trono. A nessuno frega c***o soprattutto di Viserys. Perché come ci dice anche Re Viserys I in House of the Dragon se un Targaryen non ha i draghi un Targaryen non vale niente. Questo è. Quindi il fatto che Viserys non abbia il drago nessuno lo caga. Più non ha gli alleati quindi chi se ne frega ancora meno. Daenerys ha questa visibilità e diciamo comincia a incutere un po' di timore quando si scopre che ha i draghi. La gente fa aspetta questa c'ha i draghi o no di nuovo perché Aegon conquistatore è riuscito a conquistare Westeros solo perché aveva i draghi. Tant'è che infatti l'ultimo regno a inchinarsi fu quello degli Stark che resistettero un po' di più. Ma quando gli sono arrivati a casa a grande inverno con il drago Thorne Stark non ha potuto fare altro che inchinarsi perché non aveva modo di combattere contro il drago. Quindi l'unico motivo per cui Aegon è riuscito a conquistare i Sette Regni è grazie ai suoi cacchio di draghi. Quindi all'inizio della storia Nelly lo so che ami il libro l'ho capito ma stiamo parlando della serie. Quindi in questo momento della serie ma anche del libro Daenerys non è altro che una pedina in mano a suo fratello e a Illyrio. Quindi non è che a Daenerys è stato detto per tutta la vita che lei sarebbe diventata regina e che è la legittima erede. Lei è cresciuta sapendo che il fratello è il legittimo erede. Ok. A lei quando parte il grillo di diventare regina quando comincia ad avere gente che le è fedele perché i Dothraki le sono tanto fedeli e alla morte del fratello. Lei ha deciso a un certo punto di dire ma sì dai divento io regina. Perché la gente lei l'ha visto dai Dothraki mentre vogliono un bene dell'anima a lei non si cagano il fratello. Allora siccome lei fino a quel momento aveva problemi di autostima ovviamente in quel momento dice cacchio ma io probabilmente valgo di più di lui e quindi me lo merito più io perciò allevati di c***o lo faccio io. Questo è successo. Secondo punto per questa TikToker uno dei problemi maggiori di Daenerys che l'ha traviata dall'inizio è il fatto che è stata una schiava per due volte. Questo va un po' contro il punto uno. Chi c***o la vende una regina? Nessuno vende una regina. Al massimo si sposano. E infatti non è che Daenerys viene venduta ai Dothraki per diventare non è che viene venduta come schiava che deve diventare la serva dei Dothraki che non ha manco diritto a un cavallo che deve camminare laggiù in fondo. Lei viene venduta perché comunque è uno scambio ma nel mondo civilizzato di Westeros è un matrimonio combinato come hanno fatto tutti quindi non è diverso dagli altri chi è stato fortunato ha avuto matrimoni felici chi non li ha avuti quello sì in un certo senso nel nostro mondo moderno è vendere una persona ma all'epoca e noi dobbiamo guardare Westeros con gli occhiali del medioevo non è vendere è fare un'alleanza ok? Quindi Daenerys si sposa con Khal Drogo lei ovviamente si sente presa e buttata in un mondo che non conosce perché non sa parlare con suo marito non capisce un cazzo di quello che il popolo le dice perché lei la lingua d'Otraca non la sa non sa le loro usanze quindi lei è stata presa e buttata dentro a questo questo marasma che ovviamente un po' la spaventa ma perché non lo conosce comunque ricordiamo che Daenerys viene da un contesto in cui è sempre stata buttata e presa nei mondi quindi nel senso ormai c'è anche abituata a dire oddio che succederà oggi infatti tipo nel libro è così che succede tant'è che nel libro anche se lo aspettava cioè non si aspettava di essere sposata a Khal Drogo perché non è un Targaryen infatti lei era convinta e si sarebbe sposata col fratello per fare l'alleanza Targaryen come sempre e invece no perché se loro si sposano tra di loro chi c***o glielo dà l'appoggio nessuno quindi serve che faccia sposare lei a uno che ha i soldati questo è il concetto io capisco che questa ragazza definisca il matrimonio di Daenerys come schiavismo soprattutto perché nel caso della serie hanno fatto fare una prima notte di nozze del c***o a Dani perché se non ci mettiamo il sesso violento che serie è no? giusto? che bello io proprio muoio dalla voglia di accendere la televisione rilassarmi e vedere una povera ragazza che viene presa contro la sua volontà ma certamente sono convinta che anche gli uomini non vedono l'ora di vedere una scena del genere ma vaff... c***o c***o questo nel libro non succede infatti la prima notte di nozze di Dani è completamente consensuale lei i problemi ce li ha diciamo giorni dopo adesso vi dico questa cosa ma perché? perché non riuscendo a comunicare con il marito l'unico motivo per cui il marito andava da lei era per fare all'amore e questo ovviamente lei la fa sentire un po' come per dire che bello la capisco però non è che lei viene trattata male dal marito non viene trattata male da nessuno lei non è una schiava e non solo ricordiamo che i Dothraki la amano tanto ma la amano tanto dall'inizio cioè a loro piace subito Daenerys e questo lo vediamo anche nella serie lei non ha vissuto la schiavitù lei ha vissuto un inizio di storia con il suo marito di merda ma non è schiavitù perché lei è una cacchio di regina lei viene trattata come una regina e viene ascoltata come tale come se fosse una lady dei sette regni come Kathleen viene trattata bene dalle persone non la trattano male e questa qui è lei nella prima serie e lei continuerà ad avere i suoi cinque Dothraki perché nella serie poi piano piano rimangono cinque non so perché mentre nel libro lei il suo gruppo di Dothraki ce l'avrà sempre tant'è che infatti Irri sta gente qui non muore cioè lei ce l'ha fino adesso fino a The Winds of Winter lei ancora ce li ha tutti poi nella sesta serie a caso fanno uscire fuori quest'altro gruppo di Dothraki che per carità esistono con cui lei poi litiga e la fanno schiava ma nel senso che stanno lì a fare un mi sposi o mi ti faccio lo stesso mamma mia soltanto per arrivare poi alla fine alla scena del tempio sacro dei Dothraki che prende fuoco soltanto per vedere Emilia Clarke nuda col fuoco dietro anche perché io sfido a vedere una popolazione che vede il sai tipo la tenda dei loro dei bruciare per colpa di uno e fare sì noi ci inchiniamo a te ma che cazzo dite la religione in un concetto come quello che siamo abituati a vedere nel mondo di Westeros è importante ci sono determinate divinità e la gente è fedele a quelle divinità e se tu gli tocchi il dio è un cazzo di casino non è che tu puoi arrivare perché sei figa dai fuoco e fai vedere che tu non bruci perché va bene non bruci ma se ti tagliano la testa mori lo stesso no? va bene e comunque nella serie appunto io schiava Daenerys non l'ho mai vista correggetemi se sbaglio ovviamente però a mio parere se volete chiarirvi un po' le idee perché la serie è scritta un po' col culo comunque se volete chiarirvi le idee su cosa vuol dire essere schiavi di qualcuno io vi consiglio di vedere la serie Spartacus sono quattro serie Spartacus sangue e sabbia gli dei dell'arena Spartacus la vendetta e Spartacus la guerra dei dannati allora lì possiamo parlare di schiavitù se ve la vedete se la conoscete mi dite se è la stessa cosa e ne discutiamo insieme che lì veramente vi danno una fotografia di come venivano trattati veramente gli schiavi in condizioni come l'antica Roma o il medioevo quindi coi piedi essere gentili e lei non mi pare che questa cosa l'abbia mai vissuta quindi io non so come possa essere traumatizzata da una cosa che le ha portato soltanto felicità visto che si è liberata del fratello che ha avuto un sacco di un sacco di supporto sostenitori un esercito che sente solo lei ci ha avuto anche il marito che a quanto pare è l'amore della sua vita io non ho capito che c***o di problema possa avere anche perché ogni volta lei ne esce in piedi cioè non è che ha mai vissuto un c***o di trauma quando stava tra i dotracchi a me non risulta anzi anzi ma non ti fa un c***o di trauma sta cosa mamma mia ma è normale perché è una serie dove i traumi non sono stati trattati quindi a te basta dire io non l'ho trattata male è un trauma no perché tutti veniamo trattati male ma il c***o di trauma è un po' diverso porca t***oia e far vedere che ci hanno delle ripercussioni è importante se no fai merda di questo genere andiamo avanti mamma mia poi confondi la gente certo che la confondi c***o gli scrittori ovviamente il terzo punto che lei tratta è che Daenerys è uscita fuori dalla schiavitù vabbè alla fine ha un esercito che la ama e e c'ha pure i draghi e quindi e lei c'aveva tutto viveva la sua bellissima vita ad Essos cioè capito lei stava lì ad Essos sull'asdraio col drink in mano a fare il cin cin con Miss Sunday e quindi capito lei vive la sua vita al massimo perché tutti la amano perché lei libera tutti anche se ci scordiamo che i draghi mangiavano la gente oppure lei ha fatto uccidere la gente a caso solo perché era ricca senza farci un pensiero sopra yeah cosa che nel libro succede perché succede anche nel libro per carità ma lei ne rimane molto sconvolta da questa cosa non è che si fa solo il piantarello perché deve chiudere i draghi cioè lei lì si fa un cacchio di problema perché Daenerys essendo una Targaryen si ritrova molto spesso in situazioni in cui le viene ricordato che le persone di casa Targaryen hanno diciamo una tendenza a un certo punto a prendere decisioni drastiche e ad ammazzare la gente a caso quindi lei questa cosa ci fa particolarmente attenzione perché lei non è pazza lei non vuole diventare un tiranno però ogni tanto cade nella tentazione di farlo quindi cade diciamo nella trappola Targaryen e quindi in quel momento lì in cui i suoi draghi hanno ammazzato la gente vabbè lei li chiude ma nel momento in cui mi viene la gente che mi dice tu hai ammazzato mio padre che non ha mai trattato male nessuno che non trattava male le persone che lavoravano per noi anche se si si chiamavano schiavi ma perché all'epoca diciamo poi soprattutto Essos che mi ricorda un po' appunto l'Egitto diciamo la Grecia no sai queste civiltà antiche chi lavorava per qualcun altro era uno schiavo quindi ti chiamano schiavo ma non è che tutti li trattavano male e lei però ha preso tutti i ricchi e li ha ammazzati tutti così e lei questa cosa qui se ne preoccupa se ne preoccupa vuol dire tanto per lei questo errore che ha fatto che è anche molto bello perché ti fa pensare cacchio cioè soprattutto perché come governante come regina come lord come lady tu devi pensare quando sentensi qualcuno a morte non puoi fare il cazzo che ti pare solo perché sei una gran figa e perché hai un esercito dietro e tre draghi che volano perché tu la gente devi tu devi riuscire a ottenere il consenso della gente è lì che nascono le rivolte popolo e scontento a un certo punto danno la colpa a chi governa e quindi poi si ribalta tutto perciò tu come regnante sei tenuto a dover trattare bene il tuo popolo se no prima o poi sto popolo ti manda a cagare poi continua dicendo che lei appunto vuole l'Iron Tron soltanto perché lei ha sentito sta leggenda cioè è stata cresciuta con la leggenda che è lei la legittima erede del trono di spade no non è così cioè lei Daenerys non è che a un certo punto all'interno della serie rinuncia mai ad andare dall'altra parte del mare stretto lei passa sei serie a costruirsi un esercito per andare a prendere questo cacchio di Iron Tron quindi vuole fare una conquista non ha mai detto all'interno della serie ma sai che ti dico io sto tanto bene adesso credo proprio che rimarrò qua no il quarto punto poi secondo questa tiktoker il fatto che Dani sia cresciuta con il pallino che è la legittima erede e che tutti la amano e non solo che tutti la amano lei dove sta ma che l'hanno cresciuta dicendo a lei l'hanno cresciuta che tutti l'avrebbero amata pace interiore quindi quando lei salpa da Essos con tutto il suo mega esercito per andare a Westeros pronta ad ammazzare il vero cattivone che è Cersei manco fosse Voldemort cioè io trovo assurdo che tutti quanti diciamo sì a questa biondona che sta semplicemente seduta in una stanza col vino e la accettiamo come boss finale di una saga che sta in stesura da 31 anni però mentre lei era pronta a compiere il suo destino che cosa succede? Jon Snow succede e lei si innamora oddio donna si innamora c'hai capito si innamora Coccolina e a quanto pare si innamora pure di uno stronzo perché cosa fa Jon cattivone? lei dice che la minaccia vera non è la biondona col vino plot twist incredibile ma mistici zombie di ghiaccio che non muoiono con un cazzo e che rischiano di uccidere l'umanità guarda è un video incredibile io non saprei cosa scegliere dico cioè oddio sto con le spalle al muro cosa fare? poi lei è ancora più confusa perché ormai ha gli occhiali quelli a cuoricino quindi vede tutto rosa perché è accecata dall'amore no? perché lei perché una persona se si innamora diventa scema secondo questo ragionamento e a quanto pare Daenerys è abbastanza fragile perché poi si parla di fragilità che ogni volta che si innamora diventa scema non mi pare di star parlando della stessa Daenerys che conosco io ma andiamo avanti quindi il grande dilemma dove appunto lei è confusa perché cazzo che cosa fare continuo a insomma per uccidere la biondona col vino sempre quella lì che sta dentro casa che non fa un cazzo oppure devo andare a fermare una potenziale minaccia che può distruggere chiunque perché sono i morti che camminano sulla terra guarda è difficile ma alla fine lei sceglie di andare a sconfiggere la minaccia reale quindi io qui non posso dire niente soprattutto perché Cersei alla peggio la faccio zompare per aria col drago come faccio con i morti è un po' più difficile no e un po' più potenzialmente pericolosi no e è vero che per carità alla fine dei giochi la lunga notte l'hanno fatta essere soltanto una notte molto lunga perché era una battaglia e non passava più ma la scelta ha senso perché perché non è che Cersei stava regnando col pugno di ferro in quel momento cioè lei non è che scendeva in piazza prendeva la gente e l'ammazzava a c***o non è che aveva messo restrizioni per cui non lo so appunto torturava gente perseguitava persone niente lei era diventata regina si era seduta finalmente Cersei Lannister era regina quello che ho voluto io sempre per la mia vita io adesso sto qua a beve il mio vino basta lei si stava facendo beatamente i c***i tuoi no quindi questa che si fa i c***i tuoi ed è praticamente innocua a cui io voglio semplicemente prendere il trono può aspettare qualche giorno in più su quella sedia prima di essere detronizzata con l'aiuto all'epoca di tre draghi ma Daenerys no a quanto pare lei va in errore 404 e quindi questa scelta evidentemente non ha senso perché lei doveva andare a uccidere Cersei poi chi c***o se ne frega della lunga notte che dall'altra parte ripeto perché se tu mi fai questa grande minaccia che dura una notte sola c'ha ragione pure lei a dire vabbè ti potevi fai i c***i tu e andare a uccidere Cersei c'ha ragione c'ha ragione però se uno si trova nella situazione con molta fatica perché trova un senso a sta serie è veramente difficile però fa più paura la minaccia insomma quella che potenzialmente può uccidere anche te Cersei a te non ti ucciderà mai sicuro questo ci porta al punto 5 perché seguire l'uomo che ama no quindi Daenerys così in errore 404 come se sta sotto botta praticamente la porta a perdere tutti i suoi affetti ah sì ma io mi ricordo allora sì il primo che muore è Viserion però quello anche che cosa ti fa vedere che il drago non è infallibile non è invincibile e probabilmente sarebbe morto lo stesso poi ti muore Jorah a nord va bene Viserion e Jorah due sono due nella battaglia del nord quindi seguendo l'amore della vita quello che l'ha traviata lei ha perso due affetti due affetti perché Miss Sunday e Reagan lei li perde al sud contro Cersei quindi gli affetti non li ha persi per colpa di John li ha persi per colpa della guerra durante le guerre purtroppo la gente muore ma lo sa anche Daenerys cioè se tu vai in guerra è come presupposto che qualcuno ci rimette la pelle è normale è brutto è terribile ma è quella la guerra cioè non è che tutti ne usciranno sani e salvi è quella la tragedia di andare in guerra perché se era semplice chi cazzo se ne frega no? cioè voglio dire se non moriva nessuno a nessuno fregava un cazzo ma se tu invece vai per un tuo scopo e la gente muore per te lì ovviamente ci rimani ma lo metti in conto lo sai lo sai pensi anche che potresti morire pure tu pure i tuoi draghi possono morire può morire chiunque e comunque cioè io voglio pensare voglio credere che Daenerys non sia tanto deficiente da pensare che lei arriva da una terra straniera in una terra dove lei non è stata manco un anno no? cioè che comunque non la conosce proprio e che appena entra semplicemente dicendo io sono Daenerys Targaryen tutti si inchinano cioè non ha senso anche perché lei ha visto che nessuno si inchinava al fratello quando lui dice io sono Viserys Targaryen e le erede del trono di spade tutti gli chiudevano la porta in faccia cioè due domande se le dovrebbe fare perché dico se eravamo così invincibili che tutti ci volevano tutti ci avrebbero aiutato non ci ha aiutato un cane non ci ha aiutato cioè sto a fare tutto io poi sesto punto come se non bastasse mentre ad Essos tutti l'amano e hanno il fan club di Daenerys c'hanno anche le magliette le t-shirt con Daenerys Tombo nata dalla tempesta madre dei draghi tutta quella roba là ci si fanno i tatuaggi ci si fanno tutti l'amano perché ci stiamo scordando tutti che esisteva il gruppo quello degli arpi che voleva ucciderla oppure anche i Dothraki che l'hanno mandata a cagare oppure ci siamo scordati che i nobili la odiano ci siamo scordati che lei bruciava gente a caso quindi sì tutti l'amano sicuramente però poi che succede poverina che arriva in questo brutto posto brutto brutto scuro scuro freddo freddo dove a nessuno frega c***i di chi è lei che è normale anche perché il nord nel momento in cui Daenerys va al nord quindi nella settima serie scusami nell'ottava serie hanno già un re quindi perché se io ho il mio sovrano a cui ho fatto giuramento e a cui sono leale dovrei dare retta a un altro sovrano solo perché è cute ma che c***o me ne frega a me cioè tu puoi essere anche re Artù o la regina Elisabetta I ma se io ho prestato giuramento e sono fedele al mio re tu per me non conti un c***o quindi io non ti devo niente cioè è un qualcuno trapana cioè è un concetto normale è comprensibilissimo cioè gli uomini del nord hanno il loro re anche se tu arrivi ok sei un alleato perfetto vabbè se il nostro re ha detto che tu sei un valido alleato tutto a posto e no frega c***o potrei pure morire per quanto ci riguarda funziona così in più il settimo punto è questo che la Nemesi di Deni che scopriamo essere Jon alla fine ha anche il diritto al trono oddio e lei quindi si incazza perché questo c'ha il diritto al trono ma non importa perché loro si sono innamorati cioè proprio in stile Targaryen capito cioè stanno insieme quindi se sono lei e Targaryen e lui è legittimo unificano comunque tutto perché tu presuppongo che te lo vuoi sposare a un certo punto no quindi che problema c'è se lui è un Targaryen nella serie perché poi nel libro è un'altra cosa ricordiamo è il mantra hashtag nel libro è un'altra cosa quindi il fatto che Jon e Daenerys siano entrambi Targaryen legittimi fortifica soltanto la presenza di Targaryen sul trono no soprattutto quando i Targaryen si accoppiavano in famiglia apposta lo vediamo in House of the Dragon guardatela se non l'avete vista è bellissima non è scritta col culo a tutto senso ed è stupenda quindi approvata cioè i Targaryen si sposano insieme si sposano tra parenti tra fratelli perché così il sangue Targaryen rimane sul trono e tu avrai sempre il diritto cioè tu i tuoi figli nessuno potrà reclamare altro perché non sei accoppiato con altre casate che poi magari un giorno sbroccano e vogliono vogliono prenderti il trono tu sei legittimato perché stai con un altro legittimo fa schifo eh mamma mia però si faceva così cioè i Targaryen fanno così quindi che problema c'è nessuno cioè non ha senso che si incazza per questa cosa non si può incazzare per questo perché se Jon era sposato con Brienne e Daenerys era sposata con Tyrion no quindi loro si incontrano mentre sono sposati lei ha un problema ma perché va avanti lui perché erede mas perché maschio più legittimo e quindi il trono sarebbe il suo allora lì si che lei si può incazzare ma in questo caso loro si sono conosciuti sono andati a letto insieme stanno insieme che cazzo di problema c'è se questa è Targaryen cioè tutto è guadagnato onestamente dovresti fare i saltelli di gioia e dici se rimane in famiglia mi sento pure male a dirla sta cosa che non è sana ma comunque secondo il pensiero Targaryen è così è vero che nel momento in cui Daenerys scopre che Jon è legittimo Targaryen e va un po' in panico chiaramente giusto perché indossalmente dice oddio quindi potenzialmente mi puoi rubare la corona ma Jon le dice subito che a lui la corona non interessa lui re non lo vuole essere non lo vuole mai essere mai è stato re non lo vuole mai essere capito cioè proprio non gli interessa te lo dice anzi lui va per amor suo quindi pure lui è rincoglionito lui va contro il giuramento che ha fatto al suo stesso popolo perché quando è diventato re tu prometti di proteggere la tua gente e di tenere il tuo regno sotto la tua giurisdizione diciamo quindi sotto il tuo controllo quindi tu hai promesso alle persone che ti hanno eletto re che tu li avresti protetti e che tu saresti stato il loro re quindi lui va contro il suo stesso giuramento e si inchina pure a te quindi comunque ti farebbe ti farebbe diventare a te regina quindi potenzialmente direbbe il re consorte come per esempio in House of the Dragon spoiler alert Daemon e Daemon e Rhaenyra cioè Daemon non è re quando Rhaenyra diventa regina Daemon è re consorte un po' come Filippo è a regina Elisabetta siccome lei è regina lui non può diventare il re perché sennò diventa più importante lui e quindi siccome è regina lei lui diventa re consorte diciamo neanche re consorte è principe consorte perché non sei un re quindi lei diventerebbe regina ora io non so una serie che cosa perché lì poi c'è i geni ci avevamo però se tu segui il ragionamento comunque di quello che noi abbiamo visto nella serie non ha senso che lei si incazza o che comincia ad impazzire perché Jon è un Targaryen perché lui si è completamente si è completamente inchinato a lei e la vuole come regina poi c'è l'ottavo punto guarda proprio una cosa un'aggravante che veramente nessuno le ha detto grazie di essere venuta a combattere al nord scusate ma non ha risolto tipo tutto aria alla fine cioè io ho visto un'altra serie cioè mi ricordavo io poi non l'ho rivista perché già tanto che l'ho vista una volta perché veramente mi sento male ma mi ricordo questa scena in cui aria salta fuori zompa fuori dall'ombra così tipo un ninja della foglia e da una pugnalata al al night king questo esplode esploro esplodono pure tutti gli estranei insieme a lui mamma mia che schifo di serie quindi lascio questo punto qui perché penso si spieghi da solo cioè ti devo ringraziare per non aver fatto un cazzo nonno punto a un certo punto a quanto pare lei è molto infastidita per il fatto che come abbiamo detto prima nessuno l'ha ringraziata e secondo tutti vogliono bene a john e vabbè però io ripeto cioè se siete una coppia e la gente vuole bene al tuo partner che problema c'è nel senso saranno fedeli lo stesso se siete una coppia anche perché tu sei una persona che loro non conoscono è chiaro che vorranno prima bene a lui fatti amare vacci a parlare con la gente non stare lì seduta col broncio a brutti john imbruttire e guardare brutto il romano non so e ripeto lui avrebbe tranquillamente rinunciato al suo titolo di re ritornando lord inchinandosi a lei come regina quindi se voi li sposate tu c'hai il nord che vuole bene a lui e c'hai tutto il marasma di persone che c'hai tu che vogliono bene a te diventate tutti uniti cioè funziona così non è che quando Ned e Kathleen si sono sposati allora proprio la sera del matrimonio allora poi dopo tutto il tutti i soldati di delta delle acque facevano mamma mia Ned mamma mia che ragazzo simpatico mamma mia ma questo è è bravo è bravo che c***o ne so non lo conosco io conosco lei e sono fedele a lei e quindi ti do la fedeltà anche a te viceversa non è che gli uomini del nord quando hanno visto Kathleen ah brava bella intelligente si 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 le voglio già bene ma no non ti conosco poi sei tu che ti devi far conoscere sei tu l'estranea che c***o vuoi dalla gente ti devono amare così a caso io non lo so cioè ma anche nella vita ma come vi è in mente che io entro in una stanza e devo piacere per forza cioè io non capisco questa cosa c'è questa presupposizione che non lo so solo perché non so che vita c'hai avuto o perché chissà che facciai allora entri e per forza piaci alla gente non è così alcuni devono faticare per piacere alla gente cioè non è facile soprattutto se veni da un'altra parte non conosci le loro usanze non sai che c***o sono ma come puoi pretendere che loro fanno anche perché non hai risolto nulla cioè non sai l'eroina è Aria l'eroina ma che c***o vuoi anche perché poi onestamente cioè quando poi lei decide di andare al sud la seguono tutti fanno acqua in bocca muti e la seguono quindi non è che ti hanno lasciato da sola cioè il loro apporto il loro appoggio te l'hanno dato quindi che cosa vuoi cioè io devo credere che lei sbrocca perché rosichina perché sta rosicando ma davvero cioè qui è oltre a essere scemi è proprio che sei non lo so cioè che bordì ma chi diventa pazzo semplicemente perché rosica io vabbè comunque alla fine il punto 10 che è l'ultimo punto è praticamente che lei ci spiega questa ragazza questa tiktoker ci spiega che tutto questo questi nove punti che io vi ho che appunto vi ho nominato ha portato allo sbrocco di Dani soprattutto triggerato appunto dalle campane perché le è stato detto da tutta la vita che quando lei sarebbe entrata ad Aprodo del re avrebbero suonato le campane in suo onore scusate qualcuno mi può scrivere nei commenti la puntata le puntate il personaggio che dice a Daenerys che quando entrerà Aprodo del re suoneranno le campane per lei perché io non me la ricordo questa cosa cioè se c'è ditemelo perché io non me la ricordo questa cosa chi è quello che le ha detto che Aprodo del re avrebbero suonato Fran Martino campanaro per il suo ritorno o per il ritorno dei Targaryen in generale sul trono io non capisco cioè chi l'ha detta sta cosa io devo io devo capire veramente perché cioè ma bene che non è che ho guardato la serie troppe volte perché veramente una basta ma io questa cosa non me la ricordo e ti dovrebbe comunque sì no vabbè in una buona scrittura ti dovrebbe cadere all'occhio poi magari hanno detto nella serie 3 e tu te lo dovresti ricordare ma se è un punto importante perché tu hai scelto dall'inizio che lei sarebbe diventata pazza con ste c***o di campane tu me lo dovevi ripetere in ogni singola puntata di ogni singola serie più ci avviciniamo più sta cosa delle campane tu me la devi di in continuazione se no io che c***o mi ricordo non è che mi vedo una serie cioè non è che è una serie che durò dieci anni io mi ricordo perfettamente non è che mi faccio sempre il binge watching ogni volta che te rivedo anche perché è sempre diciamo fonte di stress rifare il binge watching desta serie ok ma andiamo avanti in più questa tiktoker sempre in questo punto non si spiega come mai gli abitanti di Apollo del Rey abbiano paura di Daenerys ma come no come no cioè arriva una tizia con un esercito non solo un esercito che io non conosco perché sono persone che sono popoli che io non ho neanche mai visto ma pure persone dei sette regni perché in quel momento Cersei se non erro ditemelo ha soltanto come alleato i Greyjoy quindi abbiamo i Greyjoy e Cersei l'Anister contro tutti e in più i Dothraki i Secondi Figli e gli Unsullied come si chiamano gli Unsullied vabbè gli Unsullied scusate io perché me li leggo e me li guardo in inglese quindi a volte i nomi me li perdo certo che ha paura soprattutto quando tu cavalchi una gigantesca lucertola nera che sputa fuoco cioè è più che normale che la gente abbia paura di te abbiamo otto popoli contro un drago enorme che io non ho mai visto quindi diciamo che è un drago che vola non è che fai soltanto oh che figo cioè fai questo qua probabilmente ti sputa il fuoco cioè fai saltare tutti anzi bruci tutti soprattutto perché ripeto Cersei in quel momento non sta trattando male nessuno cioè Cersei sta seduta nel suo trono il popolo sta tranquillo lei non ha messo appunto come dicevo prima nessuna tortura nessuna minaccia nessuna persecuzione quindi la gente sta tranquilla perciò se tu arrivi con mezzo milione di persone e un drago c***o io stifo per lei è chiaro sto tranquillo perché dovrei volere che lei se ne vada a fa un c***o no? è normale allora io so capisco che questa ragazza come tanti come tutti cerca di dare un senso logico al finale soprattutto per un finale di m***a come quello di Daenerys ma come tanti altri ma purtroppo la triste verità è che un senso qui non c'è perché se Dani fosse veramente sbroccata per questi dieci punti quindi per gelosia per essere rosicona essere impallinata dall'amore non è né un bel personaggio e non sarebbe neanche una brava regina non ha senso e io non accetto di pensare a Daenerys come una persona che si fa influenzare così tanto da ciò che le succede intorno quando appunto abbiamo visto in tutte le serie che lei ne ha affrontate di cose e avrebbe dovuto sbroccare molto prima quindi il fatto di farla uscire di testa non ha senso con il suo personaggio e non ha senso con il percorso che lei ha fatto denny 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 nella serie non è un personaggio passionale lei non si trova mai a dover affrontare quello che vi dicevo prima il passato della sua casata quindi anche le cose terribili che i targaryen hanno fatto lei ogni decisione che ha preso anche quelle discutibili perché ne ha fatte viene sempre giustificata è sempre vista con una luce positiva è sempre questa questo raggio di speranza tra la folla che fa sempre tutto bene anche cose discutibili non è un personaggio da una caratterizzazione tale da dire se non posso averlo io lo butto giù non è così non è denneris che noi abbiamo conosciuto infatti emilia clark disse anche in un'intervista che lei si trovò molto sconvolta perché crescendo dieci anni con un personaggio di cui tu ti fai un'idea e dopo alla fine esce completamente dai binari senza senso ti manda in crazy ti manda in crash tant'è che lei diceva magari io ho anche giudicato bene determinate cose che lei faceva quando in realtà dovevo esprimerle male come se erano negative no amore emilia stai tranquilla non è colpa tua loro nel momento in cui ti facevano fare le cose tu dovevi esattamente uscire come un personaggio estremamente positivo che fa sempre tutto bene questo doveva uscire perché questi due che sono effettivamente due sceneggiatori di merda e non temo a dirlo perché veramente fanno dei prodotti che fanno schifo questa serie non è la dimostrazione di quanto sono incapaci come sceneggiatori e non perché non è una serie fedele al 100% al libro ma perché se tu la guardi da serie 1 a serie 8 non ha un c***o di senso non ha un c***o di senso non sembra neanche la stessa serie cioè alcuni personaggi non sembrano neanche gli stessi e non perché ho fatto un percorso di crescita che mi ha portato ad essere no perché il percorso di crescita tu il personaggio lo riconosci alla fine anzi dovresti fare guarda che bel percorso che ha fatto oppure madonna poverino guarda poi dove è andato a finire ma è un percorso che ha studiato è un percorso che se io mi vedo Danny prima serie mi deve ricordare alla fine magari una Danny più empowered nel caso positivo o una Danny che ha toccato il fondo nel caso negativo ma deve avere senso cioè io devo capire perché da punto A è diventata punto Z se no è solo fatto a c***o per far fare allo spettatore il gasp che a loro era tanto caro cioè loro preferivano fare lo shock rispetto alla storia tant'è che cito per loro i temi nelle storie sono per bambini ma che c***o dici e sei lo sceneggiatore tu ma guarda che è grave cioè uno una storia per definizione dà un cacchio di messaggio ogni personaggio che tu metti ha più o meno poi alcuni magari lo prendono nel momento che tu poi li crei e gli dai la storia ma hanno un senso hanno un insegnamento hanno una morale hanno un messaggio cacchio che deve arrivare al c***o di spettatore se no è solo un brodo di roba che poi non ha senso alla fine dei giochi è inutile ed è triste dirlo ma è inutile cercare di difendere e sostenere almeno il finale della serie cioè per me è una serie indifendibile tutta cioè interamente ma per chi ci ha trovato il senso fino a la settima serie mi pare dicono io onestamente il mio pensiero è che tanto è indifendibile cioè quello che sono riusciti a creare alla fine è proprio veramente tanto indifendibile e non si può cercare un senso o una spiegazione a quello che hanno fatto fare perché il senso effettivamente non ce l'ha gli è sembrata l'idea migliore da fare in quel momento probabilmente senza rivedersi le le altre serie probabilmente senza pensare alle conseguenze tanto per loro tutto quello che facevano andava bene e quindi hanno mandato in culo tutto quanto la verità la triste verità è che il trono di spade è una serie di merda almeno a mio parere ovviamente non è una serie che proprio non mi piace non mi piace come è stata trattata non mi piace come sono stati trattati i personaggi non mi piace il fatto che non si capisce il messaggio non si capisce metà delle cose che succedono è veramente poi io su questo sono molto fiscale sono anni che sto cercando di scrivere un libro anch'io finalmente riesco a vedere un po' diciamo la luce in fondo al tunnel e vedere personaggi completamente scacati o completamente mandati in vacca è veramente un dolore cioè veramente un dolore fisico perché la televisione come i libri possono dare tantissimi messaggi tantissimi tantissimi punti di riflessione ma devono essere trattati bene e purtroppo il trono di spade non è una serie che tratta bene questi punti anche oggi ho finito il mio sproloquio sono veramente tanto 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 interessata a sapere le vostre opinioni riguardante la storyline di Dani o il finale della serie o anche la serie in generale vorrei veramente tanto sapere qual è il vostro punto di vista e mi piacerebbe insomma discuterne insieme e scambiarci le opinioni veramente mi piacerebbe veramente tanto tanto quindi se volete lasciatemi un commento vi lascio in descrizione anche il link del tiktok di cui ho parlato oggi è un tiktok completamente in inglese ma ci sono i sottotitoli così potete guardarlo in prima persona e farvi poi ovviamente voi la vostra la vostra opinione avete sentito la mia per non so quanti minuti così almeno insomma avete anche la vostra se vi fa piacere potete anche seguirmi su instagram certo certo non è che lo uso proprio tanto sono un po' un po' impedita con i social ma ho quello dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco che appunto è a game of talks se no c'è anche quello mio personale vi linko entrambi poi se volete seguirmi fate pure se non volete non fa niente non vi perdete questa grande influencer insomma cioè proprio no proprio no detto ciò io mi levo dalle balle e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata e probabilmente un nuovo sbrocco di a game of talks ciao se avete odiato c'è un annuncio tornando al video di questa tiktok è il quartiere più rumoroso di tokyo questo ok a